Rapposelli, anche Pescara rischia di scoppiare il problema migranti, ne sono arrivati già oltre 400, altri sono in arrivo, la città potrebbe avere dei problemi nell'ospitare tutte queste persone? Diciamo che Pescara è una città sicuramente accogliente, solo che ci sta da registrare un dato, il dato è che ci sono già ospiti 400 profughi nella struttura della Caritas, ne stanno arrivando altri 60, stanno proprio per arrivare in questi giorni e ci sono dei bandi in scadenza che sono stati fatti dalla prefettura di Pescara, uno a fine luglio, quindi in questi giorni un altro ad agosto, quindi siamo al limite, anche perché voglio dire che fino a quando i profughi sono stati accolti presso la struttura della Caritas, ci mancherebbe altro, la struttura della Caritas è anche attrezzata per poter seguire anche i profughi, per quanto riguarda invece le altre strutture private, noi crediamo che non siamo all'altezza per ricevere un numero così rilevante di profughi. Noi diciamo questo anche in virtù e conseguenza del fatto che sappiamo perfettamente cosa succede alla stazione di Pescara tutte le sere, dopo le 22 purtroppo diventa un dormitorio pubblico, un dormitorio di tante persone purtroppo indigenti che non riescono ad andare avanti con quei pochi denari di cui dispongono durante il mese e io credo che dobbiamo soprattutto pensare a questi poveri concittadini e di trovare una sistemazione giusta e adeguata per loro.